allora veloce panoramica veloce per modo di dire sarà un video piuttosto lunghetto per quelli che sono i canoni della vostra recettività diciamo oggi vanno di moda i video pillola no dove si dice una cosa non si dice nulla però si lancia un messaggio allora ci concentreremo su questi tre critici anzi quattro forse cinque merighetti canova ma cosa c'è da dire su canova un signore dalla barba grigia pelato dall'ottima parlantina dall'ars oratoria notevole gesticola spesso in modo tale che possa emanare al pubblico di ascoltatori diciamo questa sua forza autoritaria da critico che però è anche autironico a micca fa l'occhiolino è un uomo colto insegna adesso da qualche anno all'università o forse già insegnava ma adesso è il rettore merighetti che è timido e si lascia prendere spesso dall'entusiasmo no festival di venezia beh assisteremo a un festival straordinario i primi tre film capolavori madre sparallela se andiamoci calmi e cauti io ho detto un capolavoro nella mia recensione però inferiore ad altri film di almodovar film di jane campion credo proprio sia un lavoro è stata la mano di dio io ho esaltato sorrentino questo film ancora non l'ho visto però ecco poi ridimensiona il tutto poi alza le stellette le abbassa a seconda dell'umore ecco francesco alò che annota tutto nei suoi blocnotes nei suoi diari di bordo e che realizza queste video recensioni con tanto di cronometro ma raramente sbaglia a parlare anzi quasi mai è molto fluido il suo eloquio ed è molto bravo a catturare diciamo le istanze anche le emozioni che ci vengono trasmesse dai film ed è anche lui ruspante forse come frusciante allora con frusciante io non voglio più avere a che fare semplicemente perché ci sarebbe da realizzare uno studio su questo personaggio ma dopo lo diremo adesso c'è un video introduttivo circa dieci minuti io cerco di coniugare la spiritosaggine alla preparazione alla competenza perlomeno sull'argomento che sto trattando quindi se recensisco un film ripeto cerco di approfondire di non essere superficiale cacciarone ciarlatano cialtrone è chiaro poi posso sbagliare posso rivedere le mie posizioni ravvedermi in merito al giudizio da me espresso su un film però in quel momento sono estremamente sincero ci credo veramente e cerco di argomentare seriamente ok a dopo e bene ci sarà anche una mia esibizione di questa bellissima canzone cantata senza la sua band il new york a memoria celebrazione dell'11 settembre di bruce springsteen dopo ok dopo dopo alla fine perché come vedrete il dolce il dolce è una canzone molto amara molto triste arriva sempre alla fine va gustato allora che possiamo dire di frusciante non voglio essere offensivo io non sono offensivo sono realista sono obiettivo avete visto quel video no aneddoti di frusciante schernisce un po tutti di deride con far far faronesco per l'appunto lui rappresenta il popolo vox popoli e popolaresco a volte viene seguito da follower che mi fanno una pena tremenda e si sentono attratti da questo personaggio così irruento che listra dalla settimarte no va bene oppure da quei cinquantenni sessantenni che non hanno un cazzo da fare annoiati e che forse si sono accostati al cinema si stanno accostando dopo una vita da impiegati Fantozzi lo fa molto ridere fracchia però ma come non si può apprezzare Fantozzi amare tantissimo che ne so un film di Tarkovsky salve amici ritratti di famiglia c'è area di famiglia in quella foto Clint Eastwood per qualche dollore in più bellissimo dietro le quinte di Kraymach allora chi sono i più grandi critici di cinema ma non solo di cinema del mondo allora mentre gusterò ma però manierò mangerò i miei magnacce managgio a voi questa torta bravo Clint Eastwood ecco doppiato da chi? Enrico? Maria Salerno? Mera di Salerno? non lo so dicevo voglio peluccare diciamo non voglio leccare nessuno io non sono un lecchino mie la che non uso la lacca ma it la sfida sottotito poi sfida senza regola right to skill quindi John Avnet i miei giovani giovini per dire le gullotte di doppio Gio Pesci il mio cugino Vincenzo diceva lacca l'aspirata invece Deborah con lacca chi è Deborah con lacca? Deborah con la Jennifer Connelly diciamo una volta in America che poi diventa Elizabeth McCover cioè col tempo imbruttisce col tempo diventa più bello è ovvio Monica Bellucci diventa meno bellocce i miei barnocci è chiaro? buono questo dolce è prelibato io sono una squisitezza quando voglio sono un uomo dolce dolcissimo oserei dire un de' sei poi dobbiamo smentire quel detto si è arrivata la frutta e da allora appunto arriva la parte migliore il dolce e allora dolcetti teneroni mi piace il tenerone i cesaroni a proposito Monica Bellucci c'è Claudia Mendola il mio un colpo gobo come Klaus Kiske e per qualche dollaro in più sei stato poco attento vecchio? allora ci sono i vecchi come Gianni Canova Paolo Merighetti più che altro i Vigliardi no? Canova Scienze delle Comunicazioni Umberto Eco giunto sul finire della mia vita dopo il quattro nome della rosa Canuto e Vecchiardi danno voi invece anche Vecchione Roberto Berigni intervistato ecco nella masterclass da Canova il dolce stil nuovo vedete il dolce c'entra sempre allora io sono il più grande critico me stesso sì sono come Bobby De Niro di Toro Scatenato autodistruttivo sì un po' me la tiro volete sapere che i critici vivono di onanismi si masturbano molto non mi sono mai piaciute le seghe mentale le seghe mentale no quando dicono vale una sega io sono il critico par excellence io critico tutti tutti voi tutti voi che non potete competere con colui che rappresenta la critica per l'antoramasia ho detto che io sono il più grande critico di me stesso quindi allora Gianni Canova un bel uomo insomma frusciante vi piace? lo seguite appassionatamente? e Marra mister Marra ma dopo cos'è non tirami su cos'è ecco dovete tirarmi su il morale è annovante a pecora mie pecorelle smarite voi contate le pecorine cioè quelle beh mi sono perso vedete ho perso il conto e i vecchi non mi tornano che poi lì è un po' di da scalico perché si è capito lì c'è Pistilli questo è un paese pomarico vicino c'è Pisticci mi piace anche il gelato a pistacchi dicevo Marra Marron Glacé a Bologna qui invece quando uno come me è palloso mi piace? questa inquadratura sfumata su un grigio opaco dopo la scienza della mia vita piena di conoscenze è chiaro? quindi deficiente io sono un uomo nascente ma il mio non sono niente ecco i miei capelli castane adesso sta partendo il mio ruttare il mio essere vulcanico forse solo rutto molte persone mi considerano brutto altre tante altre mi considero bello ma il mio a prescindere avete mai visto quel film con Totò un medico dei pazzi il pazzo di poc'anzi di che significa? è un pazzo che un posto a qui un posto a tanzio c'è anche un posto al sole Gianni Canova ama molto Robert Zemeckis perché ha scritto un libro e quindi deve pubblicizzarsi no? questo più che scienze delle comunicazioni è scienze della propaganda lui fa autopubblicità a se stesso come frusciante avete visto aneddoti di frusciante quando raccontano nella mia videoteca entra uno poi entra un altro e si picchiano che stronzata lì assomiglia un po' a Carlo Verdone di troppo forte ma ve lo faccio oh perché qua sembra anche un po' mister Mar insomma sono un figlio degli anni 90 mi è stato piaciuto Tarantino un tipo che dicevo ecco è imprevedibile ammordente è un uomo pieno di di morale è umorale è immorale non de morde morde mordicchie vivacchia scrivacchia io sono uno scrivacchino un pennivendolo meglio dei pesci vendoli comunque e dei critici da mercato ortofrutticolo chiaro? quindi abbiamo detto siamo arrivati alla frutta allora c'è la banana ci sono i problemi c'è la gente che limona è uno schifo è uno schifo poi si prende il covid perché poi la salmonella il salmone è buona gli orsi lo sanno or su tiratevi su perché voi da me meritate un pollice giù è chiaro? e poi finiamo questa torta mi state sullo stomaco siete stomachevoli siete uomini privi di gusto di taste non avete taste insomma certo che le dico di cazzate ma è questo il genius pop del cazzo fortuna cioè il piatto il piatto piange ma il piatto si è sporca ma era già sporco e appartenga alla creme della creme diciamo sono un tipo cremoso soprattutto quando sono spermatico penetrante ficcante e vengo non so se precipitavolissime volmente o ecco sono zuccheroso con la mia donna da cui super califragilistiche spiralidoso spiritoso ebbene vi avevo promesso questa mia esibizione questa mia interpretazione di una canzone ma perché non ne cantiamo due anche Dua Lipa Elton John ma dai cantiamo con questa bellissima versione bandistica cioè lì Bruce Springsteen soltanto con la fisarmonica qualche volta anche un po' stonato nella sua performance I see you in my dreams ecco un assaggio non tutta non tutta altrimenti poi ci oscurano per copyright anche se in passato ok in memoria di Michael Gudinski parte subito in quinta scusate scusate un attimo un attimo facciamo indietro allora ok abbiamo accelerato troppo la strada è lunga la strada è lunga e sembra senza fine the day is gone the day is gone I remember you my friend the day you are gone and my heart's been and Pete it seems to hear my dreams ti vedrò nei miei sogni perché ora sei morto ma ci incontreremo lassù ancora prendo la tua chitarra qui sul letto tutti i libri che hai letto and oh my soul feels like it's been split at the seams I see you in my dreams I see you in my dreams when all the summers have come to end I see you in my dreams will made and live and love again I see you in my dreams you have a round riverbed that is not the end la morte non è la fine I see you in my dreams e allora arriviamo a questa versione remix cover particolare della bellissima immortale Cold Earth no ma questa è see you in my dreams ok vai 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 che musica paradisiaca idyllica Dua Lipa and Elton John Elton John featuring Dua ma quanto tempo è passato non pensare e non rimpiangere il passato ma sai when things go wrong when the sound of the linge and temptations throw cold cold heart I don't buy you something's looking better baby it's just passing through and I think it's gonna be a long long time till touchdown brings me run again to fight I'm not a man that thinks I am at home oh no 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 that's what I should love you E E Cold cold hot Roder by you Something's looking better baby I'm just passing through And I think it's gonna be a long long time Til touch down brings me round again to fight I'm not a man that thinks I'd end Quindi ragazzi non vorrei che vi siate fatti un'idea Sbagliata perché io non sono la stessa persona Di quando mi vedete a casa, no? Molte cose andarono in maniera sbagliata Ma Adesso non voglio più Essere Un vecchio e precocemente invecchiare Come queste persone Che in realtà parlano parlano Divertono, a volte argomentano Ma in realtà un cazzo sanno fare Sai Secondo me non sanno neanche recitare E forse neanche Sai Cantare Uuuu L'avete preso tutti Cucu 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 buco